La Pink Bari Basket femminile vola in B e festeggia la promozione a Parco 2 Giugno in occasione del 1 maggio barese. Una condivisione con la piazza della propria città per un doppio risultato raggiunto dalla società. La femminile sale di categoria e la maschile conferma la sua posizione in B. Noi ci ritroviamo qui come ogni anno per festeggiare insieme il 1 maggio e coinvolgere soprattutto quella che è l'attività di base in una manifestazione che li veda tutti insieme. Questa è la base di tutto il movimento che poi alla fine porta al settore giovanile, alle prime squadre che quest'anno ci hanno regalato emozioni e gioie visto i traguardi raggiunti. Alla festa ha partecipato anche l'assessore allo sport del comune di Bari Pietro Petruzzelli. Una giornata questa l'insegna dello sport sicuramente ma anche della musica e soprattutto della condivisione. Non solo lo sport praticato, qui ci sono i due campi da basket, c'è il playground e le altre attività che abbiamo realizzato ma stiamo festeggiando anche lo sport di eccellenza perché stiamo festeggiando la promozione delle Pink, la squadra di basket femminile nel campionato di serie B che è un bello obiettivo. Le ragazze sono entusiaste, è una società tutta al femminile che è riuscita a vincere sul campo e adesso dobbiamo aiutarle perché restino in serie B e provino a portare tanta gente al palazzetto a tifare per loro. Quindi insomma oggi è una bella giornata per festeggiare anche questo. Ma poi lei rimarrà qui. Sì sì, resto qui, resto qui. Sarò tutta la giornata qui però poi c'è la partita. Vado a soffrire allo stadio nel pomeriggio.